Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana, come al nostro solito tre argomenti anche quest'oggi, ma la puntata di questa settimana e la prossima dovremmo quasi ipotizzarla come se fosse una unica puntata, anche perché poi si sono riuniti per ben tre giorni i consiglieri a fine luglio, quindi argomenti ce ne sono molti. E quelli che affrontiamo sono di pura attualità, perché il primo tema riguarda una nuova legge a tutela dei lavoratori esposti al caldo, il Consiglio è stato unanime. E poi invece ci si proietta verso l'inverno con il sistema neve, i piani straordinari e misure specifiche sono richiesti con una risoluzione che il Consiglio approva. Poi iniziamo a parlare anche delle cose più tecniche, ovvero l'aumento di capitale e il patto parasociale per quanto riguarda la situazione Firenze-Fiera. Iniziamo subito con l'argomento di più stretta attualità, i rischi per i lavoratori esposti al caldo estremo avranno particolare attenzione nell'ambito delle politiche di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Consiglio regionale infatti ha approvato con voto favorevole all'unanimità una proposta di legge presentata da numerosi consiglieri del PD e illustrata in aula dal Presidente della Terza Commissione, Enrico Sostegni, il primo firmatario è stato Andrea Vannucci. interviene modificando la legge regionale 28-2019 per sottolineare come nell'ambito delle collaborazioni in materia di sicurezza sul lavoro ci voglia una particolare attenzione sul tema della prevenzione del rischio di stress termico negli ambienti di lavoro quando le temperature sono roventi. Una canicola che ormai non è più un'emergenza, è una costante perché sono già diversi stati in cui per periodi più o meno lunghi le temperature raggiungono vette altissime e questo ha un impatto sulla salute di chi lavora, soprattutto di chi lavora in determinate condizioni. Penso ad alcune categorie ma sicuramente è un elenco che non può dirsi concluso. Penso per esempio a chi lavora nell'edilizia, a chi lavora sulle strade, a chi lavora in alcune cucine, questo evidentemente è un qualcosa che merita la massima attenzione da parte della politica e non soltanto. Questo è un percorso che avevamo iniziato presentando la proposta e con il lavoro in commissione, diciamo quando le temperature erano più umiti evidentemente. Il calendario ha voluto sostanzialmente che si arrivasse al voto forse nel periodo più caldo dell'anno, anzi sicuramente almeno fino adesso nel periodo più caldo dell'anno. È una proposta che è diventata legge, che istituzionalizza anche riguardo al tema della sicurezza sul lavoro rispetto alle temperature estreme, il cosiddetto stress termico, quello che la legge prevede come attenzione in più per alcune situazioni localizzate geograficamente all'interno del nostro territorio regionale, ovvero il macrolotto di Prato e le cave nel Carrarese. Doveva essere un intervento tempestivo da parte della regione toscana, così come lo hanno fatto quelle della Puglia, della Calabria e della Sicilia. Doveva intervenire secondo noi con un'ordinanza che in condizioni particolari di stress termico, soprattutto per chi lavora all'esterno e non ha possibilità di ripararsi, nelle ore centrali della giornata doveva essere previsto la possibilità di uno stop e anche della cassa integrazione. Agendo in questo modo, con una proposta di legge che sicuramente è positiva, ma non risolve nell'immediato il problema, non si va al nocciolo del problema, che fondamentalmente è quello che attualmente fino ad agosto molti lavoratori saranno sottoposti a condizioni estreme e non saranno tutelati. Tutela che è innanzitutto a carico del datore di lavoro, ma in cui il soggetto pubblico deve fare la sua parte. La regione, soprattutto quando si tratta di controlli con le asle, per verificare dove queste condizioni sussistono o meno e poter agire. L'ordinanza era l'unico modo per poter andare diretti al problema, invece così facendo si è messo un pannicello caldo, ma niente di più. È stata molto più coraggiosa l'iniziativa delle altre regioni, sicuramente. In Commissione Sanità avevamo già trovato una quadra sull'argomento, ma è una questione di buonsenso. Inizialmente in Commissione, devo dire, avevo avuto qualche remora per il semplice motivo che mi sembrava un eccesso di zelo, perché comunque i lavoratori sono soggetti alle visite del medico competente e conseguentemente pensavo che potesse essere un sovrappiù. In realtà poi, discutendo, credo che ribadire con una legge una questione di questo genere possa essere assolutamente utile. In fin dei conti esistono, per esempio, a Dubai, esistono degli orari di lavoro che sono notturni, quindi è giusto che anche noi teniamo conto di questi sbalzi di temperature che magari fino a qualche anno fa non ne venivano nemmeno prese in considerazione. Si dice che non ci sono le mezze stagioni. In realtà mi sembra che ci sono soltanto brevi stagioni intense, sia estive che invernali. È una proposta che in alcun modo limita la capacità di esprimere la produzione, ma tiene conto invece delle necessità anche dei lavoratori che a fronte di un cambiamento climatico, che in questi giorni abbiamo avuto modo di non apprezzare, ma di verificare con forza, e tenga conto di queste necessità. Ci sono operatori nel campo dell'edilizia, nel campo dell'agricoltura, che si trovano nelle ore centrali del giorno, sotto temperature incredibili, a dover lavorare. Che cos'è che si chiede? Il rispetto di questi lavoratori, mantenendo lo stesso orario di lavoro, ma sposticipato dalle ore centrali e quelle più calde. Il che non influisce appunto sulla produttività, ma salvaguardia invece l'integrità fisica e la salute del lavoratore. Bisogna tenere conto che in questo Paese ha norme che tutelano gli animali dal lavoro in caso di climi torridi o oltre una certa temperatura. La norma sui Fiaccherai, qui a Firenze, è un esempio, è più che opportuno tenere conto di questi cambiamenti climatici e andare incontro alle necessità dei lavoratori che fanno anche lavori complicate e complessi. L'altro giorno ho avuto modo di seguire un signore che lavora sulla gru a 50 metri d'altezza, che sposta pesi enormi, e diceva che mi sono quasi sentito svenire e se non bloccavo la gru e scendevo rischiavo di fare grossissimi danni. Quindi non soltanto tutelare i lavoratori, ma tutelare anche tutti i cantieri e le cose che abitano o vivono intorno ad essi. Dal caldo estivo al freddo invernale, ma il Consiglio regionale approva, con il solo voto contrario del Movimento 5 Stelle, una proposta di risoluzione sulle prospettive dei comprensori scistici della Toscana in relazione ai cambiamenti climatici in atto. nasce su iniziativa della Commissione aria interna, presieduta da Marco Nicolai del PD, e ovviamente la Commissione aveva approvato all'unanimità. L'atto impegna di fatto la Giunta a proseguire nel percorso di confronto con il Governo al fine di giungere alle predisposizioni di piani straordinari e di interventi finalizzati, a prevedere meccanismi di aiuto e di sostegno da destinare al sistema produttivo delle stazioni scistiche della Toscana. Noi non possiamo andare giorno per giorno dietro all'emergenza, di fronte a uno scenario che ormai è chiaro. Dobbiamo accompagnare questi territori con scelte di medio e lungo termine che hanno bisogno di investimenti e per quello che noi chiediamo al Governo nazionale di mettere in campo un'azione specifica per l'adattamento al cambiamento climatico delle stazioni scistiche appenniniche. Allo stesso tempo ovviamente abbiamo chiesto alla Giunta regionale di mettere in campo una progettualità per i prossimi anni. Altrimenti la stagione 2023, soprattutto le difficoltà e i danni che ci sono stati, rischia di essere una delle tante. Occorre fare i conti con la realtà e sostenere questi territori rispetto a prospettive di sviluppo che non accantonano il turismo invernale, lo diversificano e lo accompagnano ad altri tipi di peculiarità. È necessaria in Toscana armonizzare l'attività delle stazioni sciistiche, serve uniformare gli impianti di risalita, serve fare una legge quadro generale della montagna per definire le aree sciabili e soprattutto per garantire il trasporto pubblico degli impianti di risalita a tutti i cittadini toscani e non solo ai turisti. Serve soprattutto favorire una fruibilità nei mesi ovviamente invernali con impianti di innevazione a carattere artificiale, di innevamento a livello artificiale, ma soprattutto con delle risorse che sostengano un settore che altrimenti rischi di andare in difficoltà anche a seguito del cambiamento climatico, che differenzi la stagione turistica della montagna e faccia della montagna toscana un unico grande sistema della neve. Un po' come deve avvenire sulle terme, così con la montagna, la Toscana deve uniformare e standardizzare, a mio avviso, le tariffe, l'organizzazione, la qualità dei servizi e fare un unico grande livello di promozione del sistema della montagna. L'opportunità e la legge per la montagna, intanto bene una risoluzione che va in questa direzione e poi bisognerà nei prossimi due anni definire in maniera puntuale tutti questi aspetti. Intanto pensiamo che c'è sicuramente un effetto di cambiamento climatico, ma non così grave come viene raccontato alla narrazione ufficiale. Io voglio ricordare che l'inverno del 2021 è stato l'inverno più nevoso degli ultimi cento anni, quindi questo è evidente. Se questo è vero, io penso che sia necessario investire sicuramente su forme alternative da andare in montagna, lo scialpinismo, le ciaspolate, il turismo lento estivo, ma sia necessario anche tutelare il comparto neve classico, l'impianto di risalita. Per far questo si deve investire soprattutto nei bacini idrici, perché alla betone, alla miata, non nevica meno che a Cortina o in un'altra località rinomata delle Dolomiti. Semplicemente c'è un sistema di innevamento più efficace e più veloce, quindi in una finestra climatica di 24, 36, 48 ore riescono a innevare tutto un intero comprensorio. Noi abbiamo difficoltà, perché gli impiantisti, le stazioni invernali, possono sparare una, al massimo due volte, due cartucce in una stagione, perché poi finisce l'acqua e non ci sono più le disponibilità. Quindi la regione, se vuole difendere il sistema neve, se vuole difendere l'industria della neve, deve investire nel nevamento artificiale, deve investire soprattutto nei bacini idrici. Ora, l'estate, diciamo, che la gente sta andando molto di più montagna rispetto agli anni pre-Covid. Questo è vero. Però, diciamo, che in queste località non può bastare solo il turismo estivo, anche perché tante attività sono collegate al turismo invernale. Quindi, con questa proposta di risoluzione, si chiede che la Giunta continui, nel tempo, a dare aiuti a queste comunità dove si scia. E, inoltre, anche, si chiede al Governo che porti avanti un decreto sugli appennini. Sembra che ci siano tanti soldi in ballo. Non si sa bene come verranno destinati sia a tutti gli appennini o solo alle località sciistiche. Prima di pensare a nuovi risorsi, a nuovi stanziamenti, vorrei fare una domanda che finora è stata in evasa da questa Giunta. Quanto denaro è stato speso negli ultimi dieci anni per il rilancio del sistema neve, quella neve che, vediamo bene oggi, con i cambiamenti climatici, essere sempre più assente non solo sull'Appennino ma anche sulle Alpi. Sono stati soldi ben spesi oppure quella destagionalizzazione che più volte abbiamo chiesto doveva essere attuata in modo migliore, come per esempio in Trentino e in altre regioni hanno fatto. Perché altrimenti ci ritroveremo per l'ennesima volta a dare dei fondi a soggetti pubblici, privati, per far ripartire un tipo di turismo che è palesemente in questo momento non corrispondente a quella che è la situazione climatica attuale. E questo comporta dispendio di denaro pubblico che è il problema principale. Quindi la domanda da farci è sono stati soldi ben spesi? Si possono spendere meglio? Questa è la domanda che nessuno si fa. Aumento di capitale per 28 milioni di euro di definizione della governance e sottoscrizione di un nuovo patto parasociale. Il tutto entro il prossimo 31 dicembre una volta esaurita la procedura di selezione per individuare il nuovo socio privato. Questo è il piano di rilancio di Firenze Fiere una società che gestisce le principali strutture come la Fortezza da Basso e il Palacongresso e il Palaffari di cui la Regione detiene il 31,95%. Questo piano è stato presentato in aula dall'assessore regionale all'economia Leonardo Marras. Il lungo dibattito si è concluso anche con la votazione di due proposte di risoluzione. Quella approvata a maggioranza del gruppo del Partito Democratico chiede che una volta esaurita la procedura di selezione per un nuovo socio a questo punto avvenga anche un nuovo patto parasociale per sviluppare e favorire il sistema fieristico integrato. Respinta invece la proposta del gruppo Lega che chiedeva un processo di trasformazione delle tre società fieristiche in un unico soggetto. È una situazione molto delicata proprio per questo ognuno deve fare la propria parte tutti i soci pubblici che fanno parte di Firenze Fiere che tra l'altro hanno approvato anche un percorso per quanto riguarda l'uscita da questa situazione delicata la società ha presentato un nuovo piano di risanamento e di attività e c'è in questo programma anche la ricerca attraverso un bando di un partner privato. noi abbiamo visto che in altre situazioni in altri poli da dove è arrivato anche un partner privato che abbia un peso e un'esperienza di carattere nazionale internazionale è stato in grado di portare un contributo e quindi noi pensiamo che questo debba avvenire anche per Firenze Fiera. Sì ovviamente il sistema fieristico toscano ha bisogno di essere armonizzato organizzato e programmato nostro è un voto di fiducia sulla possibilità di portare intanto un partner privato nella governance di alleggerire ovviamente la dimensione e l'impegno pubblico ma per cercare di rilanciare e migliorare l'integrazione tra realtà come Firenze Arezzo Carrara e non solo ci sono di mezzo anche le opportunità per le città termali serve integrare l'offerta fieristica e serve soprattutto fare un unico calendario a livello nazionale e provare a parlare una lingua sola per fare della Toscana un luogo dove le fiere vengono programmate organizzate e distribuite su tutto il territorio regionale facendone di questo un motore di sviluppo la risoluzione presentata dal Partito Democratico aveva una parte estremamente condivisibile che riguardava la volontà di creare un calendario unico che è assolutamente necessario in Toscana che coordini le tre fiere principali cioè la fiera di Carrara quella di Arezzo e quella di Firenze quindi quella parte lì ci trovava favorevole ovviamente nella prima parte del testo si esprimeva grande soddisfazione per la scelta della regione toscana su Firenze e Fiera e quello per noi era invotabile inaccettabile perché c'è tutto tranne che da esprimere grande soddisfazione la regione toscana si appresta insieme al comune di Firenze insieme alla città metropolitana a spendere in Firenze e Fiera altri 16 milioni di euro oltre a tutti quelli che sono stati spesi fino ad oggi e lo fa su un soggetto incapace di fare attività imprenditoriale questo non lo dice Fratelli d'Italia lo dicono i fatti Firenze e Fiera è 15 anni che non chiude un bilancio in pareggio o in attivo ne ha chiusi forse uno nel 2010 poi ha sempre perso oggi ha un bilancio disastroso è governata da una figura che con tutto il rispetto umano politico e anche personale perché ci sono anche amico personalmente non è in grado di fare il manager è un politico che ha come merito quello di aver fatto politica per anni col partito democratico ma questo non può essere il merito per cui tu vai a governare un ente fieristico in quello che ci è stato riferito si cerca un salvatore si cerca qualcuno che ci venga a dettare le linee guida che ci venga ad insegnare quello che invece un'amministrazione o una dirigenza deve saper fare aspettare quello che il socio privato che dovrebbe intervenire al quale delegare completamente tutte le strategie e sarà un socio ci auguriamo privato che non abbia la maggioranza io credo che questa sia la fotografia purtroppo mi dispiace dirlo di un'altra eccellenza così come il maggio musicale frulentino così come Firenze Fiera di un fallimento totale di un'organizzazione di un'amministrazione e per questo nostro incontro ci fermiamo qui la prossima settimana torneremo ancora a parlare delle sedute d'aula di fine luglio e vi ricordo per tutte le informazioni c'è il sito internet www.inconsiglio.it vi ringrazio quindi per essere stati con noi vi do appuntamento tra sette giorni sempre qua sempre insieme dentro il Consiglio e vi ringrazio per la prossima e vi ringrazio